Quando si entra in un istituto scolastico ti aspetti di udire le voci degli alunni, dei professori che nelle aule spiegano le nozioni da trasmettere ai futuri protagonisti della società. Ti aspetti che la tipica atmosfera scolastica, che tutti ricordiamo, ci avvolga. Stamattina al Santa Marta di Pesaro nulla di ciò è avvenuto. Perché siamo entrati in sicurezza, sì, ma in un cantiere che sta lavorando per far sì che tutto torni quanto prima alla normalità. Allora, qual è la tipologia di interventi che state effettuando qui? In questo momento noi stiamo facendo una bonifica degli ambienti, abbiamo fatto cadere già al piano terra e al piano primo tutte le parti che potevano essere già ammalorate dei solai e l'intervento adesso al piano terra e al piano primo di bonifica è stato completato. Stiamo lavorando adesso al piano secondo per eliminare un controsoffitto pesante fatto in tavelloni, che lo stesso può essere un elemento potenzialmente pericoloso, in modo da eliminare tutte le situazioni di pericolo che sono presenti nella scuola. Fatto questo poi procederemo ai interventi di ripristino e di messa in sicurezza per poter far entrare i ragazzi in sicurezza. L'obiettivo è di far entrare i ragazzi in parte del piano terra e in parte del piano primo per il 5 di ottobre, quindi stiamo lavorando con il massimo dell'impegno per cercare di rispettare questa data che ci siamo dati. E siamo nell'aula proprio dove è avvenuto il fatto scatenante, cioè il detrito che è caduto. Preside, allora in realtà non sarebbe caduto durante una lezione sugli studenti, ma c'era un controsoffitto, però comunque questo ha dato il là a tutto il processo di ristrutturazione. Sì, praticamente il tutto è avvenuto alla fine di luglio, noi ci siamo accorti in quel periodo lì, quindi le lezioni ormai non c'erano più. Tinteggiando alcune pareti con un tecnico nostro, appunto ci siamo accorti che era caduto un pezzo di intonaco sul controsoffitto. A me quello che preme è garantire la formazione di questi giovani, non possiamo lasciare i giovani sulla strada e quant'altro. Alla fine mi ero recato anche a Fano per parlare col Vescovo, perché era tanta la voglia di riprendere le attività. Ecco, forse qualcuno ha interpretato questo mio passaggio un po' così come se io fossi stato, non so, un po' sprovveduto, ma io l'ho fatto con la coscienza professionale di rendere un buon servizio all'utenza. Ecco, adesso l'istituto e quindi i ragazzi a quando rientreranno a pieno regime come se tutto fosse... Sì, nove aule verranno ricavate nella parrocchia San Carlo, qui nella zona di via Giolitti. Poi abbiamo trovato, questa mattina proprio abbiamo definito la sistemazione di sette classi all'ex Bramante. Già dall'inizio dell'avventura, se così si può chiamare, avevamo sistemato le sei classi del Branca, che è un istituto commerciale però in via, diciamo così, di esaurimento perché ha pochi iscritti, a Pesaro Studi, in fondo a Viale Trieste. Le altre classi, e sono 24, ne restano, dell'alberghiero, e abbiamo intenzione, sempre che si riesca ad effettuare i lavori come si pensa, di sistemarle qui al piano centrale, quindi al primo piano e al piano terra, a partire dal 5 di ottobre. Le maestranze, lo ricordiamo, stanno ristrutturando un edificio dei primi del Novecento, non certo creato per una scuola, che presenta tutti i segni del tempo, ed è per questo che si vuole fare bene più che presto, perché la sicurezza degli alunni viene prima dei tempi tecnici. Se fosse anche un giorno, due o cinque giorni in più, insomma una settimana in più, non ha importanza, perché l'importante è garantire la piena frequentabilità dell'istituto, e quindi la piena agibilità, quindi bisogna fare le cose bene e non farsi trascinare dalla fretta, perché c'è un proverbio che, mi ricordo, diceva mia nonna, la gattina frettolosa ha partorito i gattini ciechi. Ecco, io penso che i proverbi oggi valgano più di ieri.